Facciamo un passo indietro. Abbiamo affrontato diversi protagonisti del nostro tempo, ma in questa puntata partiamo da un po' più lontano. Parliamo della leggenda dell'impressionismo, colui che è stato identificato come il padre di questo movimento. Claude Monet nasce nel 1940 a Parigi. Nel 1945 Monet si trasferiscono a Saint-Dre, un soborgo di Lea, dove il padre gestisce una drogheria. A 15 anni l'adolescente Claude comincia a disegnare a matita e a carboncino e a vendere caricature di personaggi della città. Acquista una certa fama insieme ad un modesto gruzzo. Dal 1956 si iscrive ad un corso di disegno tenuto da un alunno del David, ma il suo vero maestro è Baudin, che gli ha insegnato come ogni cosa dipinta sul posto ha sempre una forza, un potere, una viva città di tocco, che non si ritrovano più all'interno dello studio. E di questa frase sappiamo che ne farà il punto centrale del suo modo di dipingere. Tre anni dopo parte alla volta di Parigi per studiare finalmente in una accademia di arte. Il padre li finanzia gli studi. In questo ambiente viene a conoscenza di altri pittori e frequenta della Croix, Pissarro, Courbet e infine in qualche locale notturno anche Baudelaire, tutti di almeno vent'anni più grandi di lui. Nel 60 viene chiamato a fare servizio militare, durava sette anni all'epoca ma dopo due lascia a causa di una malattia. In realtà sarebbe dovuto tornare una volta guarito. Secondo la legislazione francese del tempo, però sarebbe stato libero se si avesse trovato un sostituto che tendesse a svolgere il suo posto. D'accordo con il padre, offrono denaro ad un uomo che lo rimpiazza. Nel 64 però litiga bruscamente con il padre che gli taglia il sostegno economico. Monet non entra quasi mai all'ouvre a studiare i classici, ma si abbondona al puro istinto e alla natura. Ama dipingere en plein air. Rappresenta la realtà e gli oggetti nell'immediatezza del fissarsi della loro immagine nella retina nell'occhio, nel loro primo apparire la coscienza. A circa 30 anni una moglie incinta e i creditori alle spalle non se la passa benissimo e tenta il suicidio. Renoir, insieme al mercante Godebert, lo aiutano economicamente. Si trasferisce fuori Parigi e riprende a dipingere. Scoppia la guerra in Normandia e per evitare di essere richiamato alle armi si trasferisce a Londra dove incontra diversi amici artisti e mercanti. Qualche tempo e poi ritorno in patria. Piano piano arriva il successo. I famosi impressionisti nascono nel 1874 con una mostra nello studio del Nadal e che espone la nuova generazione di pittori, fotografi e intellettuali. Crea scalpore. Molti vogliono distruggerla a livello critico, ma è il vero inizio della carriera di molti artisti. Noi li conosciamo e le loro opere ci appaiono come dei capolavori, ma all'epoca andare contro il mondo accademico era come dichiarare guerra all'intero ambiente di critici, collezionisti, mercanti e galleristi. Il tempo ha però ripagato il coraggio di questa nuova generazione di artisti. La carriera di Monet ha subito una super impennata verso il successo e lo ha portato ad essere milionario. Riconosciuto in ogni dove è l'iniziatore di un movimento che sarà spunto per le nuove generazioni come i fauves, gli espressionisti, eccetera, eccetera. Prenderà spunto dalle stampe giapponese di cui si innamora follemente. Ancora oggi possiamo ammirare le sue opere, piccole, enormi, semplici e complesse nei musei più importanti e nelle collezioni più ricche del mondo. Curioso è l'amore per Renoir e Monet nei confronti di Bordighera. La località di Mare e Ligure ci passano spesso qualche periodo. Alla prossima puntata con Leroy e Hartburga. Grazie a tutti.